Davvero tante le preoccupazioni e i disagi legati a Superbonus. In Commissione Consiliare avete avviato la discussione? Sì, finalmente è stata avviata. Come sapete la proposta di legge che ho fatto è stata protocollata a marzo, marzo scorso. La maggioranza ha temporeggiato parecchio, fino a che non è arrivata una seconda proposta di legge a firma del gruppo PD e tutto questo ha notevolmente rallentato e ulteriormente rallentato i lavori in Commissione, però dovremmo essere arrivati al punto fatidico perché sono stati nominati i relatori, sono stati unificati i due testi, motivo per cui durante la prossima Commissione dovremo scoprire anche se io purtroppo ho già subodorato che c'è qualche problema, la posizione del nostro centrodestra, parlo del centrodestra marchigiano perché come sappiamo a livello nazionale Meloni ha con un provvedimento affermato la cessione dei crediti per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, quindi intendo comuni, province, regioni, però le ha lasciate disponibili per le società partecipate e per gli enti strumentali per esempio della regione e per questo motivo che io mi sono attivata subito per fare questa proposta di legge perché è possibile, la Basilicata quasi contemporaneamente ha presentato la proposta, in Basilicata già è legge e già è stata vagliata anche dal Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha detto che è in linea con le leggi nazionali quindi il Molise ha legiferato, in Piemonte e in Lazio, sto parlando anche di amministrazioni di centrodestra stanno affrontando la questione, quindi io mi auguro che su questo tema molto delicato che ha richieduto importanti sugli imprenditori e su tante famiglie anche della nostra regione il Presidente Acquaroli scelga più il bene dei propri concittadini piuttosto che quelli del partito.